3.0 Dance Studio, una scuola di danza che vanta insegnanti professionisti di fama nazionale, un ambiente giovane, dinamico e familiare. Danza classica, modern, contemporary, video dance, hip hop, house, dance hall, caraibici, boogie e pole dance, ma anche yoga, total body e pilates. Vi aspettiamo nella nostra sede di fronte al comune di Sesto San Giovanni. 3.0 Share Your Moves